Salve a tutti quanti, ben ritrovati alle nostre lezioni di lingua pali. Oggi volevo farvi vedere un testo un po' particolare perché iniziamo a vedere le strutture ripetitive del canone pali. Vedremo fondamentalmente come intere porzioni di un testo vengono prodotte a partire da strutture di elementi che si ripetono e che cambiano fondamentalmente due o tre parole chiave e che quindi ci rendono la traduzione molto più semplice una volta individuata, la struttura portante. Il testo di oggi riguarda l'origine del processo cognitivo ed è tratto sempre dagli estratti di Johansson e nello specifico il quattordicesimo testo riportato nel suo libro. Allora, andiamo subito a vedere come si struttura. Dunque, non spaventatevi per la lunghezza perché in realtà, come vi dicevo, queste stringhe seguono un meccanismo particolare, cioè sono delle formule ripetitive, delle vere e proprie formule ripetitive. Ghanan cha paticcia gande chaupagyati vignanam. Ghana vignanam teva sankam gacchati. Quindi, notate, iniziate a notare i termini, le strutture che si ripetono e che sostanzialmente cambiano solo uno o due parole all'interno, ma il resto del, diciamo, dello schema rimane invariato. Ghan cha paticcia gande chaupagyati vignanam. Giva vignanam teva sankam gacchati. Allora, non vi spaventate per la lunghezza del testo, perché adesso noi individueremo direttamente la struttura generale. Dunque, nella prima frase, noi già capiamo tutta l'antifona, dove vuole andare a parare il testo. Ghanadeva bikave pacciayam paticcia uppagyati vignanam tena teneva sankam gacchati. Ve l'ho riscritto in un modo più discorsivo rispetto a come fa Johansson, perché, e in realtà vi avrei anche voluto riscrivere questo ghanadeva, perché appunto, come vi dicevo, come vi ho detto altre volte, il pali accorpa. Magari due parole in una parola sola, almeno nell'enunciato, perché rispetta fondamentalmente la pronuncia. non è una lingua che si basa su una standardizzazione grafica, ma cerca di riprodurre quanto più fedelmente possibile il parlato. Per cui, questo ghanadeva, per esempio, è l'unione di ben tre termini, yam, yad ed eva, eva che significa semplicemente, yam, yad, che già appunto formano, sono due parole che formano un termine composto per indicare qualunque cosa. Quindi semplicemente, qualunque cosa, diciamo partiamo così, e, ma in realtà, non vuol dire tutto. Cioè, yam, yad ed eva non vuol dire tutto, e dobbiamo vedere a che cosa questo termine si aggancia, perché poi dice, piccave, ovviamente, come al solito, vocativo plurale, quando si rivolge ai mendicanti, possiamo proprio ignorare questo pezzo. pacciayam, paticcia o paggeti, pacciaya è condizione causa. Quella M, non ci si può sbagliare, è un accusativo singolare. Quindi, attenzione, yagnadeva, pacciayam. Ignoriamo il vocativo plurale, non ci interessa. Yagnadeva si aggancia a pacciayam, cioè, quale che sia la causa, quale che sia la condizione, yagnadeva, pacciayam. Questa è la struttura che dobbiamo tenere a mente. Paticcia, upaggeti. Paticcia è, anche qua, è il gerundio di paccieti. Paccieti è qualcosa che si rifà, si riferisce, ritorna ad un'origine, quindi è qualcosa che viene ricondotto, e quindi è un condizionato. Letteralmente sarebbe un riconducendo, però il gerundio in pali viene utilizzato sostanzialmente per creare del lessico nuovo, per derivare dei termini da una radice di partenza. rivedremo al gerundio, perché appunto questa forma paticcia, che sia legata a paccieti, sembra un po' strano, ma io vi ricordo che ci sono tantissime mutazioni fonetiche che avvengono quando si attaccano i suffissi dei participi e dei gerundi, che stravolgono completamente la parola. Uppaggiati è ud pad, viene da ud pad, che significa sorgere, manifestarsi alla vista, oppure è un qualche cosa che appunto ci appare perché delle cause, delle concause, hanno fatto sì che un certo fenomeno si manifestasse. Vignana è un termine importantissimo, non smetterò mai di ripeterlo, vi invito a leggere la nota in fondo che spiega il perché si è scelto, ho scelto di tradurre il termine Vignana come discernimento, piuttosto che coscienza. Potremmo usare coscienza, però teniamo bene a mente che sarebbe più corretto tradurlo come discernimento. Tena, teneva, teneva anche qua è ten, tena, eva, tena, tena, eva. Tena è lo strumentale di so, del pronome di terza persona singolare. Dovremmo ripassare anche la tabella di questi pronomi. Perché si ripete due volte? Perché qua c'è una struttura particolare che è sostanzialmente ripetere teneva due volte. È vero che un altro appunto prende eva, ma sono sempre due teneva, 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 eva. Questi due strumentali, cioè che sono per mezzo di esso, per mezzo di un qualche cosa, per mezzo di egli, per mezzo di esso, e questa struttura, vi dicevo, si riaggancia a Yanyad, a Yam Yad, perché, vedete, è tutta una costruzione ammatriosca, cioè, è come se dicesse, quale che sia la causa, Yanyad, eva, pacciayam, quale che sia la causa, essa, eccetera, eccetera, vi spiegherà, viene da questa origine, e l'origine è indicata da teneva, dallo strumentale, cioè viene per mezzo di ciò, e solo per mezzo di ciò, teneva, quindi, come dire, è una struttura in qualche modo concentrica, perché alla fine, quasi alla fine, perché c'è ancora Sankham Gacciati che dobbiamo vedere, però, vedete, questo strumentale ci indica che fa riferimento, effettivamente, alla causa, ok? La causa ha un'origine, e questa origine è segnalata dallo strumentale. Per quanto riguarda, invece, Sankham, viene da Sankha, come Sankhya, e indica, Sankhya in sanscrito, ovviamente, indica un qualche cosa che viene, nominato, è un nome, ma ha l'idea di costruzione in sé, quindi è un costrutto nominale, è una definizione, ecco, definizione. Gacciati. Gacciati è, la terza persona singolare di, la radice è Gam, il verbo è andare, quindi, se noi diciamo che è un Sankham Gacciati, no? che attenzione, non è un soggetto perché Sankham è all'accusativo, però Sankham Gacciati è va al nome, qualcosa che va al nome è come dire che va sotto il nome di, cioè è chiamato, it goes under the name, direbbero gli inglesi, va sotto il nome di, e in pali si usa lo stesso verbo andare con questo uso metaforico. Allora, prima di tradurre la prima frase che abbiamo visto, io vi invito a ripassare un attimino la costruzione dei vari participi e del gerundio, perché sono probabilmente l'argomento più difficile, più ostico e più antipatico del pali. Allora, ripassiamo proprio velocemente, io qua vi ho messo tre forme frequenti, in realtà, se vi ricordate dalle lezioni, ce ne sono tantissime varianti possibili, però, diciamo, queste sono alcune tra le più frequenti. Dunque, il participio sia presente che passato crea un termine che può essere declinato come un nome e che deve essere concordato al, diciamo, al soggetto al quale si riferisce. Io qua ve li ho messi tutti all'accusativo. Il participio presente è sostanzialmente attivo in pali, eh? dimenticate il sanscrito se siete venuti da studi sanscreti, se invece non avete mai fatto sanscrito, meglio per voi, in realtà, io so se... molti dicono che chi fa sanscrito poi è avvantaggiato per fare il pali, secondo me e non rischia. Ci sono degli elementi che divergono, ci sono delle differenze che rischiano di confondere. Si può anche fare pali senza aver mai fatto sanscrito, è come se uno che volesse studiare francese gli si dicesse sennò sei obbligato a fare prima latino, cioè non ha alcun senso, uno può anche fare solo francese. E come vi dicevo il participio presente è generalmente attivo in pali e si forma a partire dalla radice del verbo, ok? E aggiungiamo questo suffisso in dentale nt come il nostro andante, facente, studente, studente è un participio presente, appunto, gacciantam, gacciantam, declinato all'accusativo. Participio passato, anche qua si forma a partire dalla radice, ma il suffisso è ta. Come comunque anche anche in italiano noi diciamo andato, ok? Gatam, se necessario si aggiunge la vocale di appoggio i. Occhio perché gatam è corretto come participio passato, però molto spesso i participi passati in pali prendono questa a lunga di aumento prima del verbo. L'aumento è un fenomeno che c'è anche in greco e ce lo dobbiamo beccare così, non c'è se può fare niente, quindi potremo trovare sia gatam che agatam. E fin qua niente di trascendentale, in realtà il participio presente e passato sono molto simili nell'uso all'italiano. I problemi vengono col gerundio perché in realtà il gerundio si chiama così in pali ma non è equivalente al gerundio italiano, è un termine indeclinabile che in realtà è derivazionale, cioè serve per creare nuovo lessico, questa è la verità, crea nuove parole che non hanno lo stesso significato, almeno non sempre, del gerundio come in italiano. Infatti lo si chiama alle volte semplicemente gerundivo o assolutivo, assolutivo fa riferimento al fatto che sia indeclinabile, non c'entra niente col fatto che rimandi ad un presunto assoluto. Diciamo l'uso però principale è quello di coordinare all'interno della frase, coordinare una serie di azioni che si succedono nel tempo, avendo fatto questo, avendo fatto quest'altro, però ciò che fa attenzione è indicare una condizione sine qua non, cioè poiché si è fatto ciò che è stato segnalato al gerundio, allora è possibile, si è reso possibile ciò che poi viene indicato nel verbo principale, che è l'unico coniugato. Per quanto riguarda la sua formazione, diciamo che si parte dalla forma che avrebbe il verbo al participio passato senza l'aumento, ma si aggiunge un altro tipo di suffisso al posto di ta, cioè tva. In realtà alle volte se molto più spesso se il verbo è accompagnato da un preverbio, ma non sempre, in certi casi anche le radici da sole, prendono un suffisso differente che è il suffisso in ja, e che stravolge completamente la forma finale del gerundio. Noi infatti abbiamo sia gantva, che è quello grammaticalmente più rigido, ma abbiamo anche gamma, che viene da gamma ja, e che in realtà come vedete non parte dalla forma del participio passato, ma parte proprio dalla radice, aggiunge direttamente il suffisso alla radice. In realtà la stessa cosa fa il suffisso tva, che avvengono talmente tanti di quegli stravolgimenti fonetici che ci è difficile a noi immaginare quale sia la forma di partenza, almeno quando vediamo il termine all'interno del test. Allora, torniamo alla nostra frase di prima e già aggiungiamo la seguente perché Johansson riporta i due punti, ovviamente in Pali non c'è la stessa punteggiatura che abbiamo noi in Italia, però i due punti ci stanno perché appunto Johansson li aggiunge chiaramente per rendere più facile la lettura, le due frasi sono tra di loro collegate, no? Allora, la prima ci diceva Yagnadeva Bikave Pacciayan Paticcia Uppaggiati Vignanam Tena Teneva Sankam Gacciati cioè O mendicanti Bikave e via li leviamo Yagnadeva quale che sia la causa il discernimento sorge da Shou da per questa ragione ok e è nominato è chiamato Sankam Gacciati cioè per questo motivo vediamolo così viene dotato di un nome in realtà di una serie di nomi come vedremo ma sostanzialmente quello che dice il Buddha è che c'è un nome che procede Gacciati un Sankam che Gacciati un nome che procede e per ognuna per identificare una serie di tipi di Vignana di coscienze o di discernimenti e che appunto sorgono per le più disparate cause Yagnadeva esempio Ciacuncia Paticcia Rupecia Uppaggiati Vignanam Ciacu Vignanante Va Sankam Gacciati Allora qui entriamo un po' nel in una fase complicata perché si introduce una struttura che rivedremo per tutto il resto del testo e infatti capita questa struttura noi in realtà potremo finire la nostra traduzione semplicemente vedendo l'ultimo diciamo vedendo gli ultimi termini il lessico ecco diciamo così che viene presentato di volta in volta man mano che procede la spiegazione del Buddha allora io ho chiamato questa struttura coordinatore in cia cia è appunto il la congiunzione semplice il nostro e attenzione non si vede perché è agganciato ma si ripete due volte perché qua si dice cia q m all'accusativo cia q vuol dire occhio solo che quando gli si aggancia la congiunzione cia ovviamente cambia la pronuncia perché in pali rispettano molto di più l'enunciato che non una norma grafica e quindi scrivono direttamente cia cun cia pacchiccia pacchiccia è appunto condizionato da è sempre il gerundio di pacchetti è come se fosse l'origine qua è pacch è pratitia in sanscrito però immaginatevi se fosse insomma dovete immaginarvi che la radice in questo caso deve fare riferimento al sanscrito quindi è come se fosse pratì pratì e si aggiunge ia il suffisso uno dei suffissi per derivare il gerundio questo pratì ia viene sostanzialmente reso in pali come pacchiccia e pacchiccia quindi condizionato da ciaccun cia pacchiccia rupe cia uppaggiati allora ci sono due cia quindi ciaccu l'occhio e rupe rupe è ovviamente viene da rupa la forma rupe è un accusativo plurale per cui le forme da un lato e l'occhio dall'altro perché c'ha quell'occhio ma ricordatevi che questo anche per la traduzione di testi in futuro il canone buddista indica molto spesso il senso con l'organo per cui può indicare anche la vista questo termine quindi e la vista e la forma e le forme anzi al plurale e la vista e le forme cioè sia la vista che le forme come quando noi in italiano diciamo e questo e quello sia questo che quello paticcia condizionato allora con la nostra sintassi italiana noi potremmo essere tratti in inganno e pensare ciakuncia paticcia rupecia vuol dire e le forme scusate e la vista che è condizionata dalle forme perché appunto paticcia segue ciakku in realtà non è così perché col fatto che sia ciakku che rupe possiedono il suffisso cia il la congiunzione in critica in realtà i due termini vanno considerati insieme e il gerundio che è inserzionato tra i due non deve spezzare nella traduzione questa loro unità e questa è una struttura che si ripete molto spesso io infatti qua vi ho segnato appunto a che sarebbe ciakku e b che sarebbe rupe entrambi con lo stesso colore a e b e uniti dal coordinatore cia cia paticcia quindi in realtà fa riferimento a qualcos'altro o meglio dobbiamo dobbiamo finire di leggere tutta la frase e tutta la frase ci dice uppaggiati vignanam ciakku vignanante vasan cam gacciati allora ciakku vignanante va è anche qua un costrutto di ciakku vignana cioè la la il discernimento ok o la coscienza se preferite di ciakku la coscienza dell'occhio sarà la coscienza visiva cos'è questo nteva deriva dal fatto che il termine di per sé è un composto di ciakku vignana all'accusativo quindi ciakku vignanam però gli si aggiunge ti ai 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 gli si aggiunge un ti questo ti è sempre il famoso diciamo le famose virgolette quotation mark che dice come le chiamano in inglese e che in pali si si enunciano proprio nel parlato cioè ciakku vignana ciakku vignanam ti vuol dire ciò che è detto tra virgolette ciakku vignana coscienza visiva ma a questo ti si aggiunge addirittura eva cioè semplicemente solo just in inglese quando si mette tutto insieme in pali come si rende anziché dire ciakku vignanam ti eva dicono direttamente ciakku vignanante va tutto attaccato tutta un'unica parola cioè è detto semplicemente coscienza visiva è detto semplicemente discernimento visivo sankam gacciati attenzione va sotto il nome di cioè procede come nome sankam gacciati cioè ciakku vignana sappiamo che è questo il nome al quale si fa riferimento quando si dice è chiamata così sankam gacciati perché perché c'è ti noi non lo vediamo perché è mischiato ma mischiato ad eva però te va è ti eva e fa riferimento a ciakku vignana per cui va sotto il nome di discernimento visivo che cosa qualche cosa che è upaggiati vignanam upaggiati come al solito come vi dicevo si manifesta ci appare può essere detto tale perché determinate cause lo hanno manifestato a noi e quindi come tradurre questa frase quando la il discernimento sorge a causa paticcia per via di ciakuncia rupecia a causa dell'occhio della visione e delle forme cioè a causa e dell'occhio e delle forme e c'è questo paticcia messo lì in mezzo che rompe ma in realtà si riferisce a entrambi e quindi quando il discernimento sorge a causa e dell'occhio e delle forme è chiamato san kangacati la coscienza visiva ciakun vignanam e questo è fatto ora una volta che abbiamo visto questa struttura non c'è assolutamente più bisogno di imparare nient'altro almeno per questo testo se non il lessico perché la struttura che abbiamo visto è sostanzialmente la struttura che abbiamo visto prima è sostanzialmente ripetuta in una serie di frasi e queste frasi sono ci abbiamo semplicemente delle parole nuove le parole nuove in questo caso sono sota che è l'orecchio sotam cia sadda che è il suono per cui diremo in questo caso esattamente come prima è semplicemente un caso diverso che il Buddha sta sta enunciando quando il discernimento sorge a causa sempre paticcia a causa dell'orecchio dell'udito e dei suoni ricordatevi che l'organo indica anche indica anche la facoltà quindi l'orecchio è anche l'udito così come l'occhio è anche la visione quindi quando il discernimento sorge a causa dell'orecchio e dei suoni perché sadde è il plurale di sadda è chiamato coscienza uditiva sota vignanam altre frasi fino alla fine del testo le possiamo direttamente riassumere tutte in un'unica slide perché come vi dicevo c'è un'unica struttura che soggiace che è quella del coordinatore cia che abbiamo visto prima e a questo punto ganancia paticcia gande ciao pagiati vignanam gana vignanante vasan kangacciati cioè gana è il naso quindi è l'olfatto ganda è l'odore al plurale gli odori quindi quando la quando un discernimento quando una coscienza sorge a causa dell'olfatto e degli odori è chiamata gana vignanam cioè coscienza olfattiva givan sciapaticcia rase ciao pagiati vignanam giva vignanante vasan kangacciati giva è la lingua quindi il gusto rasa è il sapore quando una coscienza sorge a causa del sapore e del gusto è detta giva vignana cioè coscienza gustativa ed infine no scusate ne abbiamo ancora due caiancia paticcia potabbe ciao pagiati vignanam caia vignanante vasan kangacciati anche qua caia è il corpo e mentre pota viene da da passa cioè viene è connesso al termine passa che è il contatto proprio epidermico quindi è il tatto è il tatto per cui una coscienza quando sorge una coscienza a causa delle percezioni corporee caia non è semplicemente il corpo fisico ma è proprio la percezione corporea nella sua totalità quindi quando sorge a causa del corpo e del contatto fisico e del tatto è detta è chiamata coscienza corporea ed infine manancia paticcia damme chaupaggiati vignanam mano vignanante vasan kangacciati cioè mana è manas in sascrito come il latino mensa è la mente anche se io vi esorto a non tradurre mai come mente questo termine perché da un punto di vista proprio etimologico la radice ha molto più a che fare col concetto di pensare è il pensiero quindi quando una coscienza sorge a causa del pensiero e dei dharma che sono i dhamme e i dhamma sono appunto le idee gli enti quando sorge gli enti quindi costrutti mentali enti traduciamo proprio enti quando sorge una coscienza a causa del pensiero e degli enti è detta ovviamente sarà chiamata mano vignanam cioè coscienza mentale coscienza del pensiero qui fate un po' voi la traduzione perché chiaramente è un termine molto controverso molto complesso in India non c'è mai stato cartesio per cui vi garantisco che la distinzione tra mente e corpo non viene fatta non c'è la metafisica è tutto molto più è molto diverso è molto più complesso per certi aspetti ad ogni modo questo è il testo e la struttura che volevamo vedere che volevo farvi vedere oggi bene io vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi riporto in questa ultima slide alcune grammatiche consigliate se volete intraprendere lo studio della lingua pali io vi saluto e vi aspetto ad un prossimo video grazie a tutti